Benvenuti a questo primo appuntamento di BG4SDGs. Gli obiettivi dell'ONU, sapete che le Nazioni Unite ci hanno dato questi obiettivi che dovremmo raggiungere entro il 2030, ce ne sono di molto impegnativi, dobbiamo anche essere onesti, ce ne sono alcuni molto ampi come la battaglia contro la povertà che tutti noi chiaramente vorremmo, ce ne sono altri che sono molto più specifici. In particolare oggi vi vogliamo parlare dell'obiettivo numero 9, cioè quello legato all'industria, all'innovazione e alle infrastrutture. Per questo abbiamo invitato uno scienziato imprenditore, Vittorio Pellegrini, a cui do subito il benvenuto. Benvenuto Vittorio. Grazie Massimo, grazie a Banca Generali per questa opportunità, sono felice di essere qua. Allora Vittorio Pellegrini, come ho detto, è sia uno scienziato sia un imprenditore, cosa non facile assolutamente, in quanto è stato uno scienziato di altissimo livello, è uno scienziato di altissimo livello, uno dei massimi esperti del grafene, del materiale bidimensionale. Adesso lo spiegheremo perché detto così sembra contraddire ciò che abbiamo imparato a scuola, ha lavorato per l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova per molto tempo e con il quale continua a collaborare, ma ha anche fondato un'impresa bidimensional. Allora partiamo da questo, questi materiali bidimensionali sembrano andare contro quello che ci hanno insegnato a scuola, ma esiste sul serio un materiale a sole due dimensioni e non a tre dimensioni? Esiste, il grafene è un esempio, è praticamente dal 1920 direi, da quando abbiamo scoperto la meccanica quantistica, che gli scienziati cercano di confinare gli elettroni in poche dimensioni, perché in questi regibi, in queste situazioni così ristrette, così localizzate, gli elettroni manifestano le proprietà quantistiche che sappiamo danno origine a numerose tecnologie, i laser, i transistor. E realizzare un materiale di questo tipo, in cui gli elettroni sono confinati, non è affatto facile. Negli anni 80 e negli anni 90 ci sono riusciti con i semiconduttori, i famosi pozzi quantici, che praticamente realizzavano un confinamento in una dimensione, quindi nel piano gli elettroni erano liberi di muoversi, ma nell'altra dimensione c'era un confinamento di diversi nanometri, un nanometro a un miliardesimo di metro, comunque elevato rispetto alla scala degli atomi, ma già quei materiali hanno dato origine a una serie di tecnologie strepitose, le citavo alcuni, i laser o i transistor ultraveloci che tutti noi usiamo. Poi nel 2000 è venuto fuori un materiale che ha realizzato la perfetta bidimensionalità. Il graffene è un materiale planare, quindi un foglio. Sono dei fogli infiniti. Però lo spessore di questo materiale è esattamente l'atomo, è l'atomo di carbonio. Bellissimo perché ci hai fatto una lezione molto complicata in sostanzialmente un minuto, quindi ci hai spiegato un secolo di chimica e di fisica, peraltro non è un caso, l'ho portato, sta per uscire un tuo libro che io faccio, io segnalo assolutamente il lampo dell'elettrone, le scoperte, la storia di un corpuscolo che ha cambiato la nostra vita, ma perché abbiamo invitato proprio Vittorio Pellegrini e perché stiamo parlando di grafene? Perché abbiamo detto che l'obiettivo dell'ONU vuole conciliare l'innovazione con l'industria. Sapete che l'industria evidentemente ha un problema legato alla CO2, evidentemente produrre e comporta anche un inquinamento. Allora la tecnologia, queste nuove tecnologie di frontiera, secondo te possono essere la risposta? Sì, noi dobbiamo assolutamente creare tutta una serie di tecnologie radicalmente nuove ed ecco perché i materiali sono importanti, perché nella filiera di produzione ci sono le applicazioni, come dire, alla fine della filiera, ma poi c'è la materia prima, i materiali che danno origine. Un po' come pensare a una pianta con le foglie, i fiori, bellissimi, ma alla fine ci deve essere un terreno fertile perché altrimenti la pianta non dà. Allora è fondamentale, io credo, rinnovare l'industria, rinnovare con un'innovazione che parte dai materiali, da nuovi materiali, e che permetta di realizzare tecnologie che sono più durature, più efficienti. Cioè noi pensiamo sempre che nell'innovazione dobbiamo scoprire qualcosa di completamente nuovo, sicuramente, ma ti faccio un esempio, se tu hai una batteria che dura il doppio, è la stessa batteria che hai nel tuo cellulare o nella tua macchina elettrica e dura il doppio, già questo è un colpo quasi mortale all'inquinamento, alla CO2, quindi favorisce la... ecco, questo credo che sia possibile oggi proprio andando a creare nuovi materiali, il graffene è uno di questi, quindi creando innovazione proprio alla radice del percorso industriale. Quindi la ricerca, la scienza, la tecnologia possono essere la risposta? Tu sei ottimista su questo? Io credo che possono essere la risposta soprattutto se la scienza, l'industria, la tecnologia, insomma questo comparto molto ampio si focalizza sugli elementi base, perché se noi riusciamo a rinnovare gli elementi base, il graffene è un esempio ma se ne possono fare molti altri, riusciamo a creare delle filiere completamente nuove che possono, se non rivoluzionare, migliorare la capacità degli oggetti che noi usiamo e questo miglioramento è fondamentale soprattutto se vogliamo creare un mondo sostenibile. Noi non abbiamo bisogno di cellulari super migliori, abbiamo bisogno di cellulari che durano più a lungo, che hanno batterie più efficienti, abbiamo bisogno di una macchina che non si deve ricaricare dopo 200 km ma dopo 1000 km, quindi per fare questo bisogna in particolare lavorare sugli elementi base, la fisica, la chimica, i materiali ci danno la possibilità di fare questo. Io sono convinto che esiste un nuovo risorcimento che però è basato sugli elementi base, proprio sulla fisica, la chimica e la scoperta di nuovi materiali. Il grafene è solo un esempio ma se ne possono fare molti altri. Peraltro Andre Geim che ricordiamo è stato il premio Nobel per la scoperta del grafene che tu peraltro mi hai fatto conoscere, mi hai presentato, ha ricordato che forse dopo l'era del silicio ci sarà l'era del grafene, ha utilizzato queste immagini per far comprendere come lo sviluppo tecnologico può sul servio dare delle risposte anche legate alla sostenibilità e alla trasformazione dell'industria evidentemente. Assolutamente, ma pensa all'esempio dell'alluminio, quindi qui ritorniamo all'inizio dell'Ottocento, ma l'alluminio era un nuovo materiale che è stato introdotto senza neanche sapere a che cosa poteva servire. Poi dall'inizio dell'Ottocento, quando è stato identificato, alla fine dell'Ottocento, quando si è capito come produrlo e lì sono arrivate le tecnologie dirompenti, siamo riusciti a utilizzare l'alluminio per fare aerei, per fare macchine, quindi si è creata una nuova innovazione che ha portato un beneficio all'uomo, un beneficio significativo. Questo è un esempio, il silicio che tu hai menzionato è un altro perché è alla base della rivoluzione informatica, prima col Germania e poi col silicio. La plastica, con tutto il male o il bene, che poi ora adesso ci stiamo muovendo verso la bioplastica, quindi è un altro esempio negli anni 60. Il graffene, i materiali duidimensionali, io credo che sono un altro capitolo di questa storia. Ecco, se noi con i vari strumenti investiamo su questa innovazione di base, io credo che creiamo le condizioni perché il futuro sia più sostenibile e con tecnologie a servizio dell'uomo. E dobbiamo assolutamente raggiungere questi obiettivi perché vi ricordo che nel 2020, durante l'anno della pandemia, per la prima volta i dati sono di una ricerca di Nature, i dati ci dicono che abbiamo prodotto 1,1 tera tonnellate di nuovi oggetti, mettendo insieme qualunque oggetto che l'essere umano ha creato, tutte le infrastrutture, tutte le costruzioni e questo corrisponde sostanzialmente al peso della biomassa. Quindi se mettiamo insieme tutta la natura, gli esseri umani, gli animali, abbiamo ciò che l'uomo ha costruito in un anno sulla superficie terrestre. Quindi evidentemente questo dà il peso di quanto siano importanti questi obiettivi dell'ONU. Senti, un'ultima domanda più specifica, più personale, perché è legata anche alla tua esperienza. Tu sei uno scienziato, continui ad essere uno scienziato, quindi a fare ricerca, ma sei anche un imprenditore. Di mezzo chiaramente c'è la finanza. Tutti noi siamo portati a pensare che la finanza pensi soltanto all'utile. Forse anche questo oggi sta cambiando. Si può fare impresa sostenibile? Io credo che si possa fare impresa sostenibile. Credo che sta emergendo una sensibilità nuova, perché si sta capendo che l'innovazione buona, l'innovazione che porta appunto a benefici tangibili, poi porta anche a guadagni tangibili. Quindi credo che è un concetto molto difficile da esprimere in poche parole, ma io sento personalmente che questo vento sta cambiando. Esiste, ed è sempre più pressante nella coscienza comune degli scienziati, degli imprenditori e della finanza, l'importanza di trasferire le tecnologie, di valorizzarle, di accompagnarle. Credo, e se mi permetti, che manca un ultimo pezzo, soprattutto in Italia, e cioè che è quello di supportare anche l'unione tra le aziende in termini di trasferimento tecnologico. Un dato importante, negli Stati Uniti le licenze tra aziende, quindi o le joint venture nella ricerca e sviluppo tra aziende, stanno fatturando miliardi di dollari e questo è un trend in continua crescita. Quando noi pensiamo al trasferimento tecnologico, abbiamo in mente il paradigma accademia-azienda, ecco, credo che lo dobbiamo ampliare, rendendolo un paradigma molto più pervasivo. Azienda-azienda, accademia-azienda, accademia-azienda, banca-finanza. Credo che se mettiamo insieme questi soggetti possiamo fare un ulteriore salto di qualità in tempi molto brevi. Io credo che questo sia il messaggio chiave proprio che ci permette di concludere con gli obiettivi dell'ONU. Sono mettendo a fattore comune tutti i soggetti di questa complessa filiera, che poi è il progresso sociale, economico e diciamo del pianeta Terra, possiamo tentare di raggiungere questi obiettivi, anzi a questo punto ormai dobbiamo dire dobbiamo tentare di raggiungere questi obiettivi perché saranno sempre più importanti. Io ringrazio Vittorio Pellegrini per questa testimonianza molto importante e vi do appuntamento ai prossimi appuntamenti di BG for SDGs.